Coscienza e guarigione, guida pratica all'autoguarigione consapevole, di Marco Masi. Parte prima, preludio alla pratica dell'autoguarigione consapevole, il paradosso del progresso della medicina. È innegabile che la medicina ha contribuito ad allungare l'aspettativa della vita media e molte malattie che una volta erano incurabili, oggi sono facilmente debellabili. La medicina moderna si avvale dei più sofisticati sistemi tecnologici di diagnosi, prevenzione e cura. Somme enormi vengono impegnate nella ricerca scientifica per trovare soluzioni a mali più o meno antichi e per migliorare la nostra salute. Si spende più in centri di ricerca medica, case farmaceutiche, ospedali, farmacie e campagne di prevenzione che per le spese militari. Fatto in sé positivo, ma che dovrebbe anche far riflettere. Perché, paradossalmente, malgrado i progressi della medicina e la presenza capillare sul territorio di medici e strutture, negli ultimi decenni si è constatato un notevole aumento dell'incidenza di malattie di ogni sorta in tutto il mondo. È vero, oggi l'aspettativa di vita media è molto superiore a quella di una volta. Tuttavia, se viviamo più a lungo, non viviamo meglio, neanche sotto il profilo medico. Molte ricerche mettono bene in evidenza che all'età media superiore corrisponde una diminuzione dell'età media in cui appaiono le malattie croniche. Ovvero, invecchiamo di più, ma ci ammaliamo prima. E se, da una parte, certe malattie una volta mortali oggi sono sparite, o sono facilmente curabili, dall'altra ne sono emerse o riemerse molte altre che sono risultate essere altrettanto pericolose o si pensava di aver debellato per sempre. La recente pandemia per Covid-19, il cosiddetto coronavirus, e che ha sconvolto il mondo, ne è l'esempio più eclatante. Le pandemie sono sempre esistite e niente fa pensare che, con l'approccio della medicina corrente, malgrado il suo sviluppo e progresso, potremmo evitarle in futuro. I virus mutano e si ripresenteranno di nuovo sottoforme per cui non c'è ancora un vaccino. Ogni volta ci siamo ritrovanti davanti allo stesso problema. Sviluppare un vaccino oppure precipitare in una crisi sanitaria globale. Un approccio in cui si cerca la soluzione che cura i sintomi, ma ben poche riflessioni si fanno sulle cause che hanno portato a quei sintomi e da tutte le relative e imprevedibili conseguenze. Anche i disturbi che una volta erano prevalentemente di ordine fisico, oggi non solo non sono diminuiti in numero ed in intensità, ma a queste vi si sono aggiunte anche tante malattie di ordine psichico. Malattie mentali che prima erano rare o addirittura inesistenti, sono diventate quasi normali in una società che è sempre di più di corsa e non conosce sosta. Il paradosso sta nel fatto che siamo una civiltà che è sempre più avanzata tecnologicamente nelle sue conoscenze scientifiche e mediche, eppure è sempre più ammalata. Oggi si muore meno di cancro proprio grazie a questi progressi, ma è anche vero che il tasso di crescita globale dei tumori è in costante aumento. Così come lo sono il diabete, le malattie cardiache, infettive, a proposito di coronavirus, tropicali e croniche di ogni tipo. Come mai? Non è una contraddizione. Non ci si dovrebbe aspettare che ad un progresso delle scienze mediche corrisponda una diminuzione o almeno una stabilizzazione dell'incidenza di disfunzioni e malesseri. Allora si incolpa l'inquinamento, le industrie, le nostre abitudini sedentarie, la nostra alimentazione sbilanciata, la globalizzazione, il riscaldamento globale, gli insetticidi, la chimica, eccetera. Questi fattori industriali ed ambientali sicuramente giocano un ruolo, ma tra tutte queste ipotesi ne manca sempre una. Non potrebbe essere che parte del problema sia da ritrovarsi anche nella mentalità con cui noi stessi, nelle nostre teste, concepiamo la nostra vita e non solo la medicina ma il concetto stesso di malattia e salute. Non dovremmo incominciare a sospettare che ci possa essere forse anche un possibile errore di impostazione di fondo con cui pensiamo e percepiamo il nostro corpo ed i nostri metodi curativi? Il problema è forse molto più sistemico e culturale che tecnico e farmacologico. È giunto il momento di chiederci finalmente se, al di là degli aspetti materiali, quali la qualità dell'acqua, dell'aria e dell'ambiente, le sostanze che ingeriamo, l'alimentazione, la necessità di fare più o meno sport, eccetera, non ci possa essere qualcosa di fondamentalmente errato anche e soprattutto nella nostra concezione di che cosa sia una malattia e di fattori che la determinano. Malgrado che tutti i fatti e le statistiche mondiali degli ultimi decenni in tema di malattie e disfunzioni croniche dovrebbero insinuare il dubbio che possa esserci anche un errore di base fondamentale nel sistema, nel modo con cui ci poniamo verso il nostro corpo e i suoi stati di coscienza, l'idea di ripensare i fondamenti rimane quasi un tabù, o nel migliore dei casi, ai margini di qualche riflessione personale. Rimane inoltre ancora fortemente radicata la convinzione che per guarire sia non solo necessario l'agente esterno, ma anche il guaritore esterno, ovvero il medico o il terapeuta che ci somministra cure e terapie. Per guarire pensiamo di dover andare da qualcuno che ci guarisca. Per eliminare la malattia siamo convinti di non poterlo fare da soli, ma di dover per forza avere sempre bisogno dell'autorità che ci dice che cosa fare o non fare. Non crediamo di poter risolvere il problema da soli. Vedremo nei prossimi capitoli perché non c'è neppure bisogno di dirlo, basta anche solo pensarlo, e che questo automaticamente disattiva i meccanismi di autodifesa del corpo e realizzerà una dipendenza da medici, ospedali, farmaci, e che presto si trasforma in schiavitù. Da cui l'invito a ripensare criticamente le nostre convinzioni, i nostri preconcetti e schemi mentali. L'autoguarigione consapevole può funzionare solo se diventiamo consapevoli anche dei nostri limiti, automatismi e specialmente del nostro sottofondo ideologico assieme agli strati subconsci che ci condizionano. Perché, come vedremo, in continuazione, è ciò che crediamo e ciò che pensiamo di essere che determina ciò che siamo, anche fisicamente. Dobbiamo raggiungere una consapevolezza del fatto che si ottiene ciò in cui si crede, non ciò che si vuole. Capitolo secondo Piani e parti dell'essere Pertanto, proviamo a guardare anche al di là delle apparenze e volgere il nostro sguardo ad altre interpretazioni e percezioni della malattia e della sofferenza. Al contrario della concezione medica classica, le malattie non sono un accidente, errore o imperfezione della natura, ma una chiara indicazione che è necessaria una trasformazione e pulizia mentale, emotiva e cellulare. La malattia ha una funzione evolutiva sia fisica che psichica. Uno dei punti centrali che dobbiamo tenere a mente è che ogni sofferenza, disturbo o malattia contengono un senso, uno scopo ed una lezione. Il rifiuto di volere riconoscere la malattia come maestra, che ci fornisce anche un'occasione per far crescere e maturare noi stessi, non farà altro che renderla ancora più lunga e dolorosa. Può invece risparmiarci molta sofferenza, fatica e tribolazione, l'aprirci invece all'eventualità che un male non è un accidente crudele e apparentemente casuale, che sempre apparentemente ci colpisce per mera, cosiddetta sfortuna, ma un segnale della necessità di guardarci dentro e migliorare noi stessi, non solo a livello fisico, ma soprattutto su quello mentale, emotivo e spirituale. Un aspetto importante di questo metodo consiste nel tentativo di scandaliare non solo il subconscio, ma anche quello che potremmo chiamare il potere del sopraconscio, o superconscio. Consiste nell'andare al di là dell'emotività e considerare che esistono le emozioni e l'intelligenza del cuore, assieme a dei livelli di coscienza e delle dimensioni del nostro essere, che la psicologia moderna non considera oppure ha ancora troppo poco preso in considerazione. Il sub e sopraconscio non sono la stessa cosa, così come non lo sono le emotività e le emozioni del cuore. Sono domini e dimensioni completamente diverse ed opposte che dobbiamo imparare a distinguere. Per illustrare questa realtà con un'analogia grafica, si potrebbe strutturare l'essere umano nel modo visualizzato nella figura che potete osservare. Così come a livello fisico non mettiamo tutto sullo stesso piano, gettando nello stesso calderone i piedi, la testa, le braccia, il tronco, assieme agli organi interni, come se svolgessero tutte la stessa funzione, così sarebbe altrettanto sbagliato mettere sullo stesso piano le emozioni del corpo emotivo, l'intelligenza e le emozioni del cuore, il corpo fisico e la coscienza fisica o cellulare, la mente, l'intuizione e il subcosciente. Dovremmo imparare a distinguere questi piani per funzione, grado e qualità. Un tipico errore che invece spesso si vede fare è quello di confondere la mente cosciente, subcosciente e sopracosciente. Ovvero si confonde la nostra intuizione, da cui sgorgano le più belle ispirazioni e conoscenze, oppure la nostra intelligenza del cuore, con il subcosciente, che è invece sede di una parte del nostro essere che potremmo per così dire chiamare oscura, confusa, non rigenerata o non trasformata, e da cui provengono spesso anche gli aspetti peggiori dell'essere umano. Anche il corpo non è solo un pezzo di carne e ossa. Esiste anche una coscienza fisica, che va distinta dal corpo fisico e da quello delle emozioni, che potremmo chiamare semplicemente corpo emotivo, che invece è sede delle emozioni vitali, ma da non confondere con quelle del cuore. Anche la paura, l'odio e il risentimento sono emozioni, ma di segno negativo. L'emozione del cuore invece è sempre di amore, compassione, simpatia ed empatia, apertura e unità verso il prossimo. Non si sta parlando dell'amore umano che pone condizioni, il quale può anche essere viziato da desideri e richieste dell'ego. Le emozioni del cuore vero si avvicinano di più a quello che sente una madre per il proprio bambino. Le emozioni del cuore quindi si basano su un amore incondizionato e non vanno confuse con quelle del corpo emotivo. La struttura così delineata è naturalmente uno schema, un'indicazione, che non deve essere presa alla lettera. È solo un diagramma che vuole tuttavia porre l'attenzione sul fatto importantissimo, che non siamo fatti di un solo pezzo, che chiamiamo corpo, e che ha solo una funzione. Ci sono piani e parti dell'essere che dobbiamo distinguere e stare attenti a non mettere sullo stesso piano e livello, come purtroppo si fa molto spesso, quasi sempre. Perché è a causa di questa confusione che poi non si comprendono le ragioni di un disturbo e i meccanismi di certe guarigioni che sembrano impossibili da attuarsi, ma potrebbero benissimo diventare realtà e normalità. Allo stesso tempo, in un certo senso, vale anche il contrario. Sarebbe un errore vedere tutte queste singole parti come un insieme di organi e livelli di coscienza, come aventi funzionalità indipendenti le une dalle altre. Un organismo complesso non può essere descritto come un ente composto da pezzi distinti e indipendenti, come se fosse un giocattolo meccanico fatto di tanti pezzi di Lego. Questi piani e parti del nostro essere sono interconnesse, si influenzano vicendevolmente e sono in qualche modo mutuamente interdipendenti. Si tratta di un sistema composto di molte parti in mutua interazione e che non sono separabili le une dalle altre. Al contrario di quello che si tende a credere, la qualità e l'armonia funzionali di un sistema complesso come l'organismo umano non dipende solo e forse neppure così tanto dalla sola perfezione dei singoli organi. Quello che determina molto di più il nostro stato di salute è l'interazione sinergica di queste parti. E soprattutto questo scambio mutuo delle singole componenti tra di loro che determina le qualità di un sistema complesso. Anche la moderna teoria dei sistemi è ormai giunta alla medesima conclusione che il tutto non può essere pensato come una mera somma delle sue parti. Per esempio, la cultura che emerge da una società di individui non può essere compresa solo considerando i singoli individui presi separatamente. La cultura, la storia, le tradizioni di una nazione si possono solo comprendere come il risultato di uno scambio sociale tra gli individui nel tempo. Perfino aspetti fisici elementari come le qualità dell'acqua non si possono spiegare come una somma di due atomi di idrogeno ed uno di ossigeno. Le proprietà e qualità dell'acqua emergono solo come il risultato di un'interazione tra i suoi atomi costituenti e l'ambiente. Queste qualità non si possono spiegare separatamente solo in funzione di H e di O ma solo quanto H2O considerando anche come questo interagisce con altre molecole. Non è una molecola di ossigeno piuttosto che un'altra che renderà l'acqua più pulita. No? Ovvio. Analogamente non è la perfezione fisica dei singoli individui presi separatamente che renderà quella società e nazione migliore se questi non sono capaci di interagire pacificamente anche a livello sociale emotivo ed intellettuale con altri individui del resto di una società e collettività. La perfezione fisica del singolo come unico fattore qualitativo per determinare il vivere collettivo era un concetto barbarico e militare. Non fu certo questo che determinò la nascita degli ideali e delle conquiste umane migliori. In astratto si potrebbe dire che non ha senso migliorare il singolo ente senza considerare come è interconnesso ed interagisce con gli altri enti. Purtroppo però è proprio questo che guida ancora in larga parte la nostra concezione cultura medica. Si agisce, si cura, si interviene a livello locale sulle funzioni e lo stato di salute del singolo organo dimenticando che è altrettanto importante se non addirittura molto più importante considerare qual è la sinergia tra i diversi piani e parti e le parti con cui è in mutua interdipendenza. Un cuore in stato di salute precaria può ritrovare un equilibrio si ristabilisce un'armonia interattiva non solo con gli altri organi fisici ma con il piano delle emozioni della mente del subconscio eccetera. Invece un cuore in perfetta salute diventerà presto malato se la sua interazione con il resto del sistema è disarmonica o peggio ancora si comportasse come se il resto del sistema non esistesse affatto. Le proprietà e qualità del nostro corpo assieme al suo benessere non solo psicologico ma anche sotto il profilo di un'armonia fisica sono sempre il risultato di una sinergia di tutti i piani e le parti sopra descritte. Capitolo terzo verso una nuova consapevolezza è quindi solo dopo aver riconosciuto che non siamo solo un corpo con un'anima ma un essere senziente molto più ricco di piani e parti nel suo essere e che contribuiscono in modo estremamente complesso allo stato di benessere dell'insieme che possiamo avvolgere lo sguardo verso nuovi orizzonti interiori perché solo in quest'ottica ed accettando di guardare dentro a noi stessi risolvendo conflitti paure delusioni traumi e questioni psicologiche in sospeso che possiamo andare oltre al paradigma determinista e materialista solo così si riesce ad entrare in contatto con la nostra coscienza fisica disidentificandoci dalla mente dalle false credenze e dalle suggestioni che inconsapevolmente ci condizionano ogni giorno prima di tutto proprio dalle figure professionali che invece si suppone debbono aiutarci lo scopo ultimo è quello di riuscire a dirigere la mente cellulare direttamente con quello che potremmo chiamare un movimento interiore e che è alla base di tutti i cambiamenti fisici e degli stati di salute o malattia si possono così rompere argini verso orizzonti più ampi se ci si rende conto che buona parte delle malattie sono ricordi programmi e memorie cellulari a volte trasmesse anche da madre in figli e forse anche da vite passate in realtà si tratta di conoscenze antiche che andrebbero riscoperte purtroppo manca ancora una presa di coscienza una volontà di farlo sarebbe già utile il solo incominciare dall'abc mentre si spendono miliardi per la ricerca sul lato strettamente materialistico fisico nulla viene investito per acquisire nuove conoscenze sugli effetti placebo o anche cosiddetto nocebo e soprattutto la loro potenziale applicazione o eliminazione ai fini della guarigione fisica questo ha naturalmente una spiegazione molto semplice per la medicina ufficiale e le case farmaceutiche da cui questa dipende non c'è alcun interesse nel perseguire ricerche simili dato che probabilmente questo porterebbe alla scoperta che esistono metodi di cura per cui la stragrande maggioranza delle nostre malattie sono risolvibili senza far ricorso ai farmaci i medici e agli ospedali se per esempio si scoprisse che per curare i tumori si dimostrasse più efficace adottare certi atteggiamenti interiori mentali e di suggestione psicologica invece che dei pesanti mezzi chemioterapici questo sarebbe un colpo micidiale per tutta l'industria farmaceutica le medicine alternative non convenzionali o natura apatiche hanno già tentato di più questa via ma generalmente anche loro non riescono ad andare molto oltre a qualche generica pratica di affermazioni positive scadendo poi spesso in una eccessiva enfasi sui metodi di cura esteriore per esempio l'uso di erbe medicinali sostanze naturali aromaterapie messaggi vero presente energie pranico sottili diete digiuni miracolosi chi più ne ha più ne metta questo perché anche in loro nelle medicine alternative è ancora profondamente radicata alla convinzione di fondo che prima di tutto il corpo sia una macchina che risponde sostanzialmente solo o comunque quasi solo o prevalentemente a stimoli fisico-energetici ci si immagina che un determinato input debba causare un determinato output la realtà è invece molto più complessa e articolata eppure molto più affascinante in un certo senso e ricca di prospettive i sei dei sette piani di coscienza e di esistenza che abbiamo elencato nell'introduzione contemplate all'interno di una concezione che vede l'essere umano come mente coscienza individuale e del corpo emozioni subcosciente e sopracosciente rimangono ignorate oppure nel miglior dei casi ai margini della discussione terapeutica altri si sono avventurati oltre fondando un movimento del cosiddetto pensiero positivo e della legge d'attrazione secondo cui più o meno inconsciamente in ultima analisi siamo noi che creiamo le nostre condizioni di vita e con i nostri atteggiamenti pensieri siamo responsabili delle cose che ci accadono si tratta di tecniche che sotto molti aspetti incorporeremo anche in questa sede e che anzi ampieremo e di cui spiegheremo anche il perché funzionano e quali siano i meccanismi fisici sottili ed occulti per cui risultano essere efficaci tuttavia queste tecniche saranno collocate al posto che meritano senza conferirle quell'aura e quel potere che a volte risulta sproporzionato inoltre il largo consenso che ha ricevuto il movimento del pensiero positivo della legge d'attrazione curiosamente non ha portato a parte qualche eccezione ad un'evoluzione del concetto di malattia e guarigione alla fine anche in coloro che le propongono quando arriva quel che chiamiamo malattia in qualche modo continua a prevalere una mentalità ancora troppo meccanicista c'è anche un'altra ragione per cui non si cerca una via nuova che vada oltre allo stretto materialismo o ad una logica determinista e questo è l'atteggiamento del paziente quanti di noi nelle vesti del paziente rimarrebbero soddisfatti del proprio medico se non ricevessero delle medicine per curarsi la maggior parte di noi se siamo affetti da un male e chiediamo al dottore una soluzione rimarremo delusi se non ci fornisse una pillola un farmaco una sostanza da ingerire incomincieremo subito ad avere dei seri dubbi sulla professionalità di chi ci ha in cura probabilmente prefereremmo che ci consigliasse un intervento chirurgico piuttosto che sentirci dire di cambiare convinzioni abitudini di vita o atteggiamenti mentali è pertanto un po' troppo semplicistico individuare solo nel potere delle case farmaceutiche come le sole responsabili dello stato delle cose e anche oserei dire anzi forse soprattutto un certo tipo di cultura quella del paziente di tutti noi che non abbiamo alcun interesse economico coinvolto nel potere delle case farmaceutiche siamo noi che non vediamo l'alternativa dal continuare a lasciarci condizionare da esse con tutti i soprusi annessi connessi è quel nostro bisogno quasi ossessivo di un aiuto esterno per guarire che conferisce alle case farmaceutiche i pieni poteri e lascia che si creino caste e figure per cosiddette semi divine i cosiddetti illuminari li chiamiamo questa fiducia nasce nuovamente da quel condizionamento materialista fisicalista secondo cui siamo solo macchine che necessitano di un meccanico si tratta di una convinzione che è entrata nel nostro subconscio e si è radicata in ogni cellula del nostro essere per ragioni evolutive e che è forse seconda solo agli istinti della fame del sesso della sopravvivenza ma è giunto il momento di incominciare a liberarcene di slegare i lacci dei preconcetti sull'inevitabilità della schiavitù della materia per incominciare ad incamminarci verso orizzonti più luminosi e meno opprimenti e diventare sovrani di noi stessi e questo senza il continuo bisogno di medici o autorità vere o più spesso presunte che ci riparano e salvano con i mezzi esteriori qualcuno potrà pensare che la teoria seguente sia un po' troppo semplicistica troppo bella per essere vera ma vi assicuro che a volte le soluzioni ai problemi più difficili anche quelli fisici sono quelle più semplici ed in cui nessuno crede ragione forse per cui anche i più sani ecoconsapevoli e spirituali per così dire si ammalano di malattie gravi so per certo perché l'ho provato su me stesso e l'ho visto funzionare anche in altri che esiste un metodo tanto semplice quanto apparentemente assurdo e che può guarire anche da malattie comunemente considerate gravi o difficili da trattare la terapia tra virgolette se così si può dire non si basa solo sugli insegnamenti ben notti delle medicine alternative olistiche o sui metodi psicosomatici che consigliano un equilibrio interiore eccetera non si sta solo parlando del fatto che i nostri stati d'animo ad animo influiscono sul nostro sistema immunitario e quindi sullo stato di salute certo anche questo è vero ne parleremo se siamo depressi subiamo un trauma ci capita qualche grave dispiacere questo può riflettersi sul nostro organismo si tratta di cose ben note non è solo su questo che si vuole però attirare l'attenzione qui ma su un altro fatto di un fatto nuovo che si è instaurato nell'atmosfera terrestre da poco tempo di una nuova energia che prevade ora il pianeta sui piani sottili e per esprimere la cosa in modo figurativo che sta innalzando le frequenze della coscienza planetaria e di conseguenza permette al corpo di acquisire nuove funzioni fisiche e fisiologiche rispetto al passato in particolare il potere di autoguarirsi con più efficacia è un processo ancora appena percettibile che inevitabilmente si scambia per eventi ed effetti casuali o fortuiti ma si tratta di un'energia una vibrazione sottile che è lì e lavora dentro di noi e nei nostri corpi chi ha sviluppato dei corpi sensibili a questa vibrazione può per esempio rendersi conto come il proprio corpo necessita di meno cibo per mantenersi sano oppure non ha più la necessità di seguire regole predefinite per funzionare correttamente oppure ancora sviluppa strane malattie o dei disturbi che col senno del poi si rivelano essere state non delle disfunzioni ma delle trasformazioni fortificanti invece che debilitanti stiamo quindi parlando della possibilità di poter influire direttamente sulla coscienza del nostro corpo anche indipendentemente dallo stato d'animo il nostro umore lo stato psicologico si oppure quest'ultimi giochino naturalmente un ruolo la tecnica qui proposta non è solo emozionale energetica o che invoca forze esterne particolari ma si basa principalmente su una nuova consapevolezza si tratta di scoprire un livello di consapevolezza di quello che è sempre stato in noi con le sue infinite possibilità di guarigione e di benessere ma che ora è ancora più efficace perché sostenuto da una coscienza energia planetaria che fino a poco tempo fa non era ancora operativa si tratta di lasciare che si sviluppi un processo verso un nuovo equilibrio senza che noi interveniamo in continuazione con i nostri dubbi le nostre paure le nostre ansie i nostri condizionamenti le nostre false opinioni su noi stessi le nostre circonvoluzioni mentali anche mediche in particolare su che cosa sia o meno salutare o su come il processo di guarigione debba per forza avvenire quello che sto per proporre per quel che ne so non è mai stato considerato tanto meno tentato come metodo terapeutico esso può tranquillamente complementare ed aggiungersi a qualsiasi altra terapia sia allopatica che olistica e che eventualmente già state praticando in più non ha alcun effetto collaterale o controindicazioni